A Remy Frank, il presidente della giuria di ICMA 2013, chiediamo di questa scelta di ambientare il premio quest'anno all'auditorium di Milano. E ovviamente, abbiamo conosciuto l'orchestra, abbiamo conosciuto la qualità, la qualità di questo orchestra, che abbiamo riconosciuto da Riccardo Schailly durante i anni di Schailly. Quindi l'orchestra era benvenuta per noi e abbiamo conosciuto che abbiamo un'auditoriale meraviglioso. E poi abbiamo deciso di andare a Milano. E ora siamo molto felici che abbiamo fatto questa decisione, è stata una buona decisione, non la vera decisione, ma la buona decisione per farlo qui. E siamo felici di avere tantissimi artisti brillanti oggi, per mostrare al pubblico di Milano che la buona qualità di musica può essere, insieme con La Verdi. E cosa ci dice dei vincitori di quest'anno? Sì, quando abbiamo discutito sui vincitori, non si concentrano necessariamente sui grandi stari del mondo musicale. Stari di cui ci diciamo che non devono riconoscire, ma non necessariamente ne devono più promosione. Quindi abbiamo cercato di trovare molto buoni artisti, con un'ottima qualità di qualità, e non solo sui mainstream. . 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